mi piace ma mettere le storie con storie con un altro un altro un altro u n t u w u y l u un altro assaggia lo stesso assaggia lo stesso milone cosa te ne frega se mostra un altro basta che ti fa assaggiare qual è il tuo problema devi calcolare che 2022 2022 anche se lei assaggia un altro l'importanza che ti fa assaggiare che l'importanza è che assaggi tu quindi può mostrarsi tutti i tipi che vuole ma basta che ti fa assaggiare chiaro